Sulle proposte che ho fatto vediamo quante commenterò dopo. Penso ad esempio che un maggiore cortinamento sul advice ai turisti per esempio sia utile perché nell'ultima settimana ognuno è andato un po' a ruota libera e francamente non aiuta. Penso anche che l'annuncio del governo di aprire un'investigazione indipendente su tutte le violenze debba essere fatta in cooperazione con organismi internazionali e non come dire solamente loro per intenderci.